Buongiorno, in quest'ultimo video riflettiamo sull'ultima parte dell'Ave Maria, nell'ora della nostra morte. L'ora della nostra morte è decisamente l'ora più temuta, più allontanata, ma decisamente inevitabile. E l'Ave Maria ci riporta la memoria a questo momento ogni volta che la recitiamo. Ci mette davanti la realtà che più temiamo. E anche se sappiamo che quest'ora segna il nostro compimento perché la vita finisce nella vita eterna, ne abbiamo paura. E allora, proprio per questo motivo, quando le nostre certezze vacillano, noi chiediamo l'aiuto di Maria, la madre di Dio, le chiediamo di intercedere per noi. E allora la nostra consolazione è che anche nel momento della nostra morte lei non ci lascia soli, ma appunto intercede per noi presso Dio. E da qui sgorga fiducioso l'Amen, che dice a Dio che possa attraversare questo momento drammatico, il più drammatico, proprio perché sono nelle tue mani. Buona festa dell'Immacolata!